Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video con il mio cameraman Dario Dario lo faccio sempre tu? Sì Entraci qua, vi avete tanto chiesto un video room tour aggiornato e ve lo faccio con molto piacere perché la camera è stata la stanza più bella secondo me per una donna da arredare eccetera a me piace molto tutto quello dello stresciato Anche per dormire Allora vieni amore facciamo vedere, qua abbiamo i nostri bellissimi comodini con i cuori questa bellissima lampa Tutto l'oro, guardate che oro che c'è qua sopra Mamma mia ma che oro Quanto sono tutte cose del Caritashop che trovate a Caritashop sono praticamente le mie creme preferite Allora questa qua è una crema che sto usando da un po' di tempo all'olio di argan è buonissima, molto fresca, leggera, è di Nakomi La trovate su Caritashop, io provo tutti i prodotti che vendo Questa qua è una crema che uso, me la metto la sera per praticamente quando ho le gambe stanche contro le vene varicose è anche tonificante e la stessa tipologia c'è anche anticellulite su Caritashop ed è buonissima, me la consiglio tutte e due E questa è la baciur E questa è la baciur, è bellissima Poi ci sono i miei occhiali da sole Da sole? I miei occhiali da sole ragazzi Ah no, i miei occhiali da viso, scusami Questo è il mio iPhone, è bellissimo, è il mio iPhone, non è bello Questa è la cover, cioè la copertina qua che è rotta E poi c'è una letterina di una ragazza che mi ha scritto, la tengo qua perché ci tengo moltissimo E poi questo qua è anche il mio bassamolabbra preferito Io sono ossessionata del bassamolabbra, è questo di Nakomi Ovviamente anche questo lo trovate su www.caritashop.com E' uno dei miei preferiti, tutti i gusti E questo, amore, questo è troppo bello Questa è bella, questa Amore, questo è stupendo Questo praticamente è il campioncino Perché io provo tutti i prodotti che vendiamo a Caritashop E ovviamente anche online Per chi non lo sapesse abbiamo fatto anche lo shop online e potete acquistare Quindi questo qua, praticamente è il campioncino Il prodotto è un barattolo, tipo un burrocorpo Ed è burocorpo e capelli Ed è buonissimo, ha le spezie marrocchine Si chiama Smooth Body Butter Warming Moroccan Space Raga, ha un profumo bellissimo Io praticamente l'ho divorato il campioncino Lo spalmo sulle mani prima di andare a dormire Tipo come che avete da tante lo adulto E i giolli di pietre E vabbè, perché sono povera Orecchini d'oro, eh Ciao anche i pupi Pupi, ciao! Pupi, salta, salta Vai Pupi, salta Pupi, vaici vedere come salta Allora, praticamente qua abbiamo il letto, ragazzi Questo è il letto favoloso Che c'ho io E quello che vi volevo far vedere Soprattutto è questo più buone, fantastico Che è un nuovo arrivo Che abbiamo preso Ci siamo fatti un regalo di Natale Io e Dario E abbiamo praticamente preso tutto questo set Che vedete Sul sito Dreamin01 Che raga Vi straconsiglio Se vi piace questi Questi piumoni Queste cose calde E volete prendere qualcosa di veramente buono Di qualità Soprattutto Fatevi un autoregalo di Natale O comunque un regalo Se lo volete fare Sono, questo è tutto il set Ma sono buonissimi di qualità C'è voglio vedere? Praticamente, fai vedere Allora c'è il piumone Che è super caldo E poi la cosa bella Che c'ha questi Bottoncini Questo metodo Che permette di rifare il letto In modo molto molto semplice È super morbido È caldissimo E praticamente Il set che ho preso io Si chiama Luxury Lo trovate su questo sito Che si chiama Dreamin01 E vi dico già Che c'è anche uno sconto per voi Carlita10 Che proprio mi hanno dato dal sito Per permettervi di avere Uno sconto del 10% Se volete fare un acquisto Io ve li straconsiglio Sono veramente di qualità È proprio un marchio italiano Buono E questo è praticamente Il set Luxury Viene questo piumone Il materasso Questo qua Il lenzuolo Che è abbinato a grigio I cuscini Cioè i cuscini Vedi che ti danno l'oro Tutto il set Il cuscino è bellissimo È super morbido Con le federe E anche questi altri due cuscini Sempre i cuscini con le federe Comunque sul sito Ci sono vari set Di vari colori Andate a vedere Io ho preso questo qua Perché mi piaceva molto È bellissimo E poi non dimentichiamo Anche la coperta Anche questa coperta di lana Super calda e morbida Che è bellissima È abbinata a tutto il set Poi questo set Potete prendere Anche se è solo il piumone Solo la coperta Insomma Io mi ristrano Sono super morbido Wow Tu le che ero Si E rocchette in amore Come rotto il letto Voi dobbiamo comprare pure il letto No vabbè comunque Noi stiamo dormendo caldissimi Questa coperta è super calda Il piumone è molto caldo E comunque roba di qualità Quindi perciò Ve ne ho parlato Scusate se sbottonate la gonda E dopo che abbiamo comprato il set Compriamo anche il letto Perché la colita l'ha distrutto Perché il letto è rotto Qua Per chi vi segue già lo sa E' una tenda che mi ha fatto mia mamma Perché mia mamma è molto brava L'ha cucita interamente lei E poi ci abbiamo applicato Questi cuoricini Che comprai dai Maison du Monde Poi qua abbiamo questo mobile Sia questo che questo Sono di Ikea E sono belli Insomma sono mobili economici Poi fa vedere che ci sono tutti i cuoricini Questi qua A cuoricini Li avevo comprati dai Maison du Monde E li ho sostituiti io Non li aveva il mobile Anche queste qua Poi il centino l'ha fatto mia mamma Questo l'ha fatto mia mamma C'ho tutte cose sciabbi Molto carine Guarda questo come è bello Con le perline Lo specchio anche l'ha fatto mia mamma Cioè mio padre l'ha pitturato Ha fatto tutti questi stili sciabbi E poi qua Questa qua anche Questa qua è di Maison du Monde E questo invece chi l'ha fatto? Mia mamma Questa l'ha fatta la mamma di Dario È praticamente un cuoricino Fatto all'uncinetto molto carino Perché lei fa tutte queste cose Le vende anche È bravissima Vabbè questo non è niente Fa cose anche molto più complicate Ma sta un mercatino Sì è vero Un mercatino a quarto Un mercatino a quarto sta Villaggio di Babba Natà Sì E poi qua invece Sul mio mobile Ho messo qua i miei profumi preferiti Tra voi questo qua Che è il Fioridilis Di Apiarum È uno dei miei preferiti in assoluto E su Calida Shop Lo potete trovare E ci sono varie fragranze Sono tutte belle C'è anche vaniglia Gersomino Sono bellissimi questi profumi Io veramente Lo adoro Questo è talcato Molto bello e femminile E il deodorante Invece adesso sto usando Ambre Gersomino Questi deodoranti qua Sono veramente i migliori E li trovate su Calida Shop A me piacciono tantissimo Sono molto profumati Poi ragazzi Continuando qua Questo qua Allora questo specchio È uno specchio Che avevo comprato Da Maison du Monde Ed è uno specchio Che a me piace tantissimo È super sciabli È carino Queste qua Sono delle scappette Che tutti quanti mi domandano Ma non le indossi mai Non le indosso Perché è un numero molto grande E praticamente Me le ha portate mia mamma Da Parigi Sono semplicemente Un souvenir E io le ho appese qua Perché sono sciabbi Poi mi ricordano lei E quindi le ho appese Ma se farò vedere come è bella Whatever you decide to do Make sure you will wrap it Vabbè comunque significa Happy Happy No 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 Significa Qualunque cosa deciderai Di fare nella tua vita Sei felice Assicurati che ti renderà felice Questo è un motto per la vita Ragazzi Voi dovete essere felici E fare quello che nella vita Vi rende felici È importante Ultima cosa L'abbiamo a far vedere È il lampadario Amore Facciamolo vedere Aspetta Mora il butto a terra Ecco il lampadario Che è bellissimo Inquadralo bene Questo è un lampadario Che ho comprato Ovviamente Da Maison du Monde Perché mi piace Va tantissimo Quindi questo è tutto Ragazzi Ah no Questo dovevo dire Questo è Che mi ha regalato Dario Invece Sciccheria Guardate qua Spegni la luce È un Aspetta Se lo spegniamo tutto Ah bello Ma questo è bello Dormino Questo qua L'avevo comprato Ti rilassa Cioè Praticamente C'è una giornata Di sciabbi E lo pagai anche Pochi Tipo 5 euro Ma forse 10 E lo comprai là Perché io Amo queste cose Sciabbi Quindi vado sempre A ricercare queste cose Ah e poi Quei si pare Allora Questo qua Me l'ha regalato Dario Cioè Praticamente Questo È l'esset luxury Del letto Quello là Di Dreaming 01 E così viene Con questi due cuscini Con tutto Poi noi l'abbiamo Impreziosito Con questa cuscina Di me è Dario Che me l'ha regalato Il mio amore Con questo pupazzo Che me l'ha regalato Il mio amore E con questi cazzini Che me l'ha regalato Il mio amore Questi sono bellissimi Sono di Natale A chi ci vuole qualcosa Di Natale Sono super caldi Dentro Vero amore Me ne metto sempre la sera Quando vado a dormire E li lascio qua Perché mi piacciono tanto Quindi questo è tutto ragazzi Vi mando Un bacio grande Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un super like Almeno uno Anche per Dario Che mi ha registrato il video E mi raccomando Andate su Dreaming 01 E fate il vostro acquisto Con il mio codice sconto Carlita 10 Noi salutiamo Da la nostra stanza Ciao 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 Mi mujer, soy yo el único que te da placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady Como tu la quiero así Quiero que te enamores Como soy yo de ti Acas andarte flores En tu nombre escribí Mil canciones de amores Para que pienses en mi Como yo pienso en ti Voy buscando una lady Como tu la quiero así Quiero que te enamores Como yo estoy de ti Acas andarte flores En tu nombre escribí Mil canciones de amores Para que pienses en mi Como yo pienso en ti